Anche i lavoratori interinali di Al Foundry, la multinazionale di Avezzano specializzata nella produzione di semiconduttori e circuiti integrati, che da un paio di anni fa parte del colosso cinese Smic, saranno tutelati con gli ammortizzatori sociali nella crisi che sta interessando il sito marsicano. In vista dei cambiamenti radicali preannunciati dall'amministratore delegato Sergio Galbiati e che potrebbero forse proprio riguardare il legame con Smic, Nei giorni scorsi è stato chiuso un accordo per gli oltre 1.400 dipendenti del sito industriale della città, che ora riguarderà anche i dipendenti delle società interinali che lavorano nello stabilimento di Avezzano. È arrivato il momento per l'azienda di cambiare, dice Galbiati, novità che saranno rese note entro un mese. Diciamo l'azienda è in questo momento in una condizione di avere necessità di controllare i propri costi. È una situazione contingente, ma soprattutto è in un momento in cui deve cambiare. È uno di tanti punti di flesso che ha affrontato. Le due cose coincidono temporalmente, per cui abbiamo chiesto l'apertura di un contratto di solidarietà a cui partecipa sostanzialmente tutta la gente dell'azienda, compreso anche noi al Vertice, e con l'idea di guadagnare il tempo che serve sul fronte dei costi per poter fare questa transizione. Abbiamo davanti alcune opzioni a cui stiamo lavorando all'acremente, diventeranno presumibilmente la scelta, diventerà pubblica a breve, quindi saprete di cosa si tratta. Sono confidente nel dire che in uscita sarà una situazione migliore che rilancia l'azienda per i prossimi anni a venire. È uno dei tanti cambiamenti strutturali che abbiamo fatto in tutti questi anni, quindi siamo contenti di essere in condizione di poterne fare un'altra e di rilanciare. Ci aiuta a capire qual è questa volta il contesto che ha generato questa necessità di doversi rimettere di nuovo in discussione, in campo? Sostanzialmente è un calo della domanda, in un contesto in cui noi abbiamo potuto e dovuto diversificare poco. Noi siamo leader al mondo in un settore, che è quello dei sensori di immagine, e abbiamo come cliente il leader mondiale e la sua domanda è scesa, sostanzialmente. Quindi siamo la perfetta macchina produttiva di ricerca e sviluppo per un leader che ha dovuto fare un riaggiustamento. È questa la missione per il futuro? Questa è una delle possibilità, integrarsi all'interno di una struttura di leader nel mondo, oppure giocare la carta, una carta di diversificazione. Sapremo cosa abbiamo scelto di qua a un mese e mezzo.